Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Tre dipendenti della Asla Vezzano Sulmona L'Aquila sono stati sospesi dalle loro funzioni pubbliche nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla procura del capoluogo abruzzese. L'indagine riguarda un appalto per l'acquisto di apparecchiature mediche destinate a un presidio chirurgico dell'azienda sanitaria ed è stata avviata dai carabinieri del comando provinciale che hanno notificato le misure interdittive ai tre indagati. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila. I tre indagati sono un dirigente medico, un funzionario incaricato della redazione dei documenti e un amministrativo responsabile del procedimento. Le accuse nei loro confronti variano e comprendono reati come turbata libertà di scelta del contraente, concussione e falsità ideologica. L'Asla Vezzano Sulmona L'Aquila è coinvolta come parte offesa nella vicenda. L'indagine era partita lo scorso autunno. I carabinieri hanno accumulato prove attraverso perquisizioni, acquisizioni documentali, testimonianze e attività di intercettazione. Secondo quanto emerso, la gara di appalto, evidenza comunitaria indetta nel 2022, aveva un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro. I responsabili del procedimento avrebbero però condizionato la scelta del contraente attraverso requisiti tecnici fissati in modo tale da favorire un unico operatore economico. Sembra che, attraverso attestazioni false, abbiano manipolato la procedura di gara. Inoltre, dalle indagini è emerso che uno degli indagati avrebbe minacciato rappresentanti di un'altra azienda operante nel settore delle apparecchiature mediche. La minaccia sarebbe stata legata alla partecipazione organizzativa ad un convegno medico nazionale tenutosi all'Aquila nei primi mesi dell'anno. Questo elemento ha ulteriormente rafforzato l'impianto accusatorio contro uno degli indagati. La Procura della Repubblica dell'Aquila sta portando avanti le indagini e i recenti avvisi di garanzia notificati agli indagati nel mese di giugno hanno segnato un passo significativo nel processo investigativo. La comunità rimane in attesa di ulteriori sviluppi e dettagli in merito alla delicata inchiesta.